Allora In effetto ragazzi Buona epifania perchè io non so quando Questo video uscirà Però lo sto registrando proprio il 6 Gennaio quindi buona epifania ragazzi Sono molto afflitto perchè Adesso ricomincerà la scuola E sono afflitto anche ragazzi perchè oggi faremo Un gioco Ai limiti Cioè ragazzi il click che sto per fare Con questo mouse mi porterà alla morte Capito? Ah ragazzi inoltre ho comprato una nuova tastiera Fantastica E ragazzi adesso andiamo A fare il gioco che distruggerà la mia vita Ragazzi non me ne dire neanche di dire qualcosa Quindi ragazzi facciamola intro e cominciamo Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo Novi Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Sono che Allora ragazzi io sono Pottergame70 E appena si ragazzi è tornato E oggi ragazzi siamo su I wanna be the guy The movie The game Allora ragazzi siamo proprio pronti Ragazzi non va Ok ragazzi non mi rimane Che cliccare sulla testa a casa Bene Allora ragazzi siamo su I wanna be the guy E le istruzioni chiaramente in ogni gioco di questi Non ci sono Mannaggia Ah beh allora mi muovo con le freccette Però ne salta e ne si abbassa Clicchiamo ogni tasto possibile Ok Ah raga con Z si spara Ah e con Shift salta Perfetto Allora ragazzi siamo Non voglio i tasti permanenti fatti Cavoli tuoi Allora ragazzi Salviamo Eh come cacchio Come si salva Ah ok ragazzi ci devo sparare sopra Andiamo raga Te lasciando la storia di chitarra elettrica Che è molto bello Direi ragazzi che ho notato una cosa Non si spinge fino alla fine Quindi magari dobbiamo restare qui Good boy Good good Stessa cosa per qua immagino Sì Ma vieni ragazzi Ormai sono un pro Mi ha trollato malamente ragazzi Lo ammetto Vabbè raga Allora è evidente che da lì non posso passare Perché Considero che viene sparata subito Non si può andare di là C'è una porta nascosta Ah ragazzi Ti cito Allora ragazzi Aspettate Provo a disattivare questa cosa E adesso non mi rompere più Analizza sempre questa sezione Vabbè Allora ragazzi Stavamo dicendo Ho scoperto che si può fare il doppio salto Con Con questo Soltanto che non posso dimostrarvelo Perché Guardate Avete visto Bene Quindi abbiamo scoperto che c'è il doppio salto Raga ma qua il muro non c'è No Brutto e infame Che non c'è altro Allora ragazzi Siamo Sotto Degli alberi di ciliegia E ragazzi Vistano che la via più sicura sarebbe questa Io non ci vado Perché sono sicuro Che quella è la via sbagliata E quindi sto di qua Credevo ragazzi che dovessimo Collezionare le ciliegie A quanto pare Non è fatto così Quindi dobbiamo passare di qua Ho capito Ho capito Ragazzi ma c'è bloccato il gioco Ma non è possibile Ok ragazzi siamo tornati Io sono riuscito a Ok sono riuscito a A fare cose Ok ho capito ragazzi la strategia Ma però Questa però non cade Queste cadono Ok ragazzi la prima La terza e la quarta cadono Allora Caputa Allora Perfetto Ok questa Emo Prima Terza Quarta Sesta E settima Ragazzi Questo sarà un lungo gameplay Fidateli Ok ragazzi L'ho superato tutto Quindi ora Ripensandoci ragazzi La gravità Non è proprio una cosa Relativa a questo gioco Quindi ragazzi di cui in modo tutte queste Sono sicuro che appunto Vadano sopra Allora Salto Probabilmente ragazzi Sono gli alieni Che vogliono fare un raccolto Ma a me sinceramente Non interessa Se non hanno più mele Non devono fregarse Le hanno danno i terrestri Vabbè ragazzi Allora Ok ragazzi Ci siamo Allora Vediamo un poco Di cosa si tratta Vabbè Fa semplice Ripeto ragazzi Quello che ho detto La gravità Non è una cosa Tutto al capo No Che poi ragazzi Non so se sono mele Ciliegie Ma non credo che sono ciliegie Visto che sono Giganterrime Oh mio Ma che Come Prima scende Poi sale Deciditi Ok Va bene Allora Oh Tu sei quella Tras Sgrettino Vai Ok ragazzi Ora no 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 Ce l'avevo fatta E ma vuoi schiattare Grazie Poveri Allora ragazzi Adesso Allora ragazzi Il mio piano è Sono qui Salto qui Da qui Vado qui Scendo Faccio il doppio salto E vado di qua E dovrebbe farmi salire la nuvola Vado di qua Faccio il doppio salto E vado qua O la va O la spacca No Vabbè ragazzi Non ci sono manco arrivato Manco arrivato Non ci sono neanche arrivato Madonna Ragazzi Non mi ha fatto il doppio salto Ragazzi Non me l'ha fatto Io ho aspettato troppo Però il doppio salto Me lo devi fare lo stesso Guarda Per soddisfazione Ti prego Facciamo così Non salti Non salta Non salta Non salta Ragazzi Non salta Ragazzi Non salta Non salta Non salta Allora ragazzi Calma e pace interiore Ora Sai cosa Sai cosa devi fare Vedi di farlo Correttamente Allora ragazzi Siamo qui Allora ragazzi No 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 ragazzi No 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 ce l'avevo quasi fatta Dai ragazzi ci stiamo avvicinando ragazzi 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 ce l'avevamo quasi fatta Allora ragazzi avete visto anche io sono andato ho saltato Ragazzi Avete visto ragazzi c'è che non è fisicamente possibile Per gli iscritti Per gli iscritti Per gli iscritti Un paio Per gli iscritti Ragazzi 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 l'ho fatta Ragazzi io mi suicido per vedere Come No ragazzi No no Manica Ragazzi buco buco Vogliamo Verso l'infinito E oltre Uii Ma che cacchio Ragazzi Sinceramente Direi che per oggi il video si può concludere qui Dal grandissimo Potter Games 70 Il Mastro Pro Gaming Ragazzi voglio un applauso quattro volte Ragazzi Sono un grande Ragazzi voglio tanti di quegli applausi da far scosciare Ragazzi Tempestate di like Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto Seguitemi dalle pagine Facebook Twitter Instagram E per chi ragazzi non ha visto il video precedente Vi lascio ancora il link di The Sound Parable nella descrizione Che è quello del mio amico Che ho nominato nello scorso video Per chi non l'avete visto Ragazzi Veramente Sono alcuni della felicità per ciò che ho appena fatto E quindi ragazzi ci vediamo al prossimo video Bella Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti